I carabinieri della compagnia di Noto hanno tratto in arresto un 28enne del luogo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A seguito di una perquisizione personale e domiciliare, i militari dell'arma hanno rinvenuto due panetti di hashish del peso complessivo di circa 180 grammi, nascosti in un cuscino all'interno dell'armadio della camera da letto del giovane. Pertanto, dopo le formalità di rito, il 28enne è stato associato presso il carcere Cavadonna di Siracusa, così come disposto dall'autorità giudiziaria Aretusea.